Al via Vibo Valencia i progetti integrati di sviluppo locale, meglio conosciuti come PISL. Ieri la presentazione del programma nella sede di Confindustria. Attorno al tavolo l'assessore regionale allo sviluppo economico e alle attività produttive, Carmela Barbalace, il presidente degli industriali Antonio Gentile e il presidente di Confindustria Giovani Rocco Colacchio, che in veste di presidente di Calabria di Gusto ha spiegato le finalità del progetto, che vede coinvolti 21 comuni del Vibonese e numerose piccole e medie imprese del territorio. Sono tre anni che ci lavoriamo come Confindustria in collaborazione con il comune capofila, che è Spilinga, per il contratto di investimento. Noi come Confindustria parteciperemo con la rete di imprese Calabria di Gusto, perché questi investimenti si possono fare solo per aggregazioni, consorsi o rete di imprese. Noi parteciperemo con la rete di imprese Calabria di Gusto, dove io sono il presidente. Obiettivo è dunque quello di mettere in rete le attività produttive dei paesi coinvolti nel progetto e realizzare micro filiere per lo sviluppo di quelle aree. E 21 comuni del Vibonese hanno deciso di sfruttare questa opportunità. A loro si è rivolta l'assessore regionale che ha lodato i piccoli e i medi imprenditori, fiore all'occhiello dell'economia.